Prorogate le concessioni delle spiagge, ma solo fino al 31 dicembre del 2023. Allo scattare del 2024 quindi le concessioni scadranno, anche nel caso in cui dovesse subentrare un nuovo soggetto in società. E' quanto deciso dal Consiglio di Stato, che ha sentenziato sul contenzioso tra amministrazioni locali e concessioni balneari. Dal 2024 non potranno esserci ulteriori proroghe e si dovrà aprire alla concorrenza. Così il potere giuridico interviene in una questione non pienamente risolta dal governo Draghi, nemmeno con il DDL concorrenza, approvato qualche giorno fa dal Consiglio dei Ministri, mentre sulle liberalizzazioni pende un richiamo dell'Unione Europea sulla normativa del mercato interno a difesa dell'economia liberista. Inizialmente, in base alla legge di bilancio del 2018, le concessioni balneari avrebbero dovuto perdurare per 15 anni, nell'attesa di una nuova legislazione e dando così il tempo di realizzare i bandi di gara senza scoraggiare i balneatori da eventuali investimenti di cui non potrebbero raccogliere frutti. Le associazioni di categoria lanciano l'allarme. E' una sentenza imbarazzante, ha dichiarato il presidente del Sibabruzzo, Riccardo Padovano. Da un lato è una sorta di messa in moda del legislatore, sostiene Padovano. Dall'altro è una contraddizione perché si contestano le scelte automatiche e generalizzate della pubblica amministrazione e al contempo si stabilisce una proroga altrettanto automatica e generalizzata, ma per soli due anni. Valuteremo le iniziative da intraprendere, ha concluso il presidente del sindacato dei balneatori.